Ragazzuoli, ciao a tutti, eccoci nuovamente qui, chi l'avrebbe mai detto, con uno di quei video ciclici che parlano di report perché non so se ne siete al corrente ma puntualmente stasera faranno una delle loro inchieste, uno dei loro servizi casualmente riguardo la vicenda plus valenza infatti non so se tipo venerdì avete visto anche le Iene che per pure strana coincidenza hanno deciso di intervistare proprio in questo periodo qui Campidelli dove racconta della sua brutta esperienza con il Verona ovviamente legandosi al discorso delle plus valenze citando solamente la Juventus nonostante, è sempre giusto ricordarlo, all'interno di questa indagine ci sono diverse squadre di Serie A coinvolte però effettivamente sia mai citare le altre, sia la possibilità di spiattellare lì in prima pagina la Juventus e voglio dire perché non farlo e soprattutto perché non fare questo video nel momento in cui saprai che molto probabilmente la Juventus non spiaccicherà parola riguardo ciò che andrà a fare questa sera report, ci sono qui io infatti è per questo motivo qui che io mi auguro voi lasciate in questo momento un bel mi piace di sostegno e quantomeno di apprezzamento io quantomeno ci provo, la Juventus non ci prova neanche nonostante costantemente sparino merda nei suoi confronti quantomeno io ci provo perché questa mattina report ha fatto uscire una preview di quello che sarà il contenuto del servizio che andrà in onda e devo dire la verità quei due minuti e mezzo che hanno pubblicato sui profili social mi hanno lasciato veramente brividi partendo dal presupposto che tutto è iniziato così 15 anni dopo Calciopoli la Juventus è di nuovo nella bufera ovviamente ci mancherebbe altro perché non incanalare la narrazione della vicenda proprio in quella maniera 15 anni dopo Calciopoli la Juventus è di nuovo lì che si sta cagando addosso perché c'è quel scentore di Serie B assolutamente e poi spiegano all'interno di questa preview tutta la vicenda delle plusvalenze che bene o male a grandi linee conosciamo e devo dire la verità il mio parere riguardo il discorso delle plusvalenze credo ormai lo sappiate l'ho detto in un video appena è scoppiata questa bufera delle plusvalenze ma ci sta anche ribadirlo per pochi secondi cioè è palese che la Juventus negli anni passati abbia fatto questo genere di operazioni per sistemare il bilancio e secondo me è anche giusto parlarne perché va bene vuoi fare le inchieste e vada dio così io però poi di conseguenza mi aspetto anche giustamente dal mio punto di vista quantomeno che si parli anche di tutte quelle che sono le squadre indagate e di quelle che sono tutte le operazioni che coinvolgono quest'indagine perché insomma adesso va bene tutto quanto ma se si vuole sempre e solo parlare di Juventus quando ci sono e ci sono state soprattutto altre squadre che hanno fatto questo genere di cose a una certa anche giustamente ti tira il culo no più che altro perché alla fine si parla pur sempre di un servizio che andrà in onda sulla Rai sulla tv di stato e quindi anche per forza di cose ti aspetti quantomeno un servizio che sia il più imparziale possibile mentre invece puntualmente report quando si parla di calcio è solito uscirse puntualmente quando si parla soprattutto di Juventus ma questo assolutamente non perché c'è della malafede anzi tutt'altro però devo essere sincero andando avanti con il video preview caricato da report questa mattina sui profili social quando sono arrivati al discorso di Rovella mi sono venuti veramente i brividi devo essere sincero a maggior ragione poi sai se chiedi il tutto a un giornalista ad uno che dovrebbe fare questo di lavoro sia che si tratti di giornalista sportivo sia che si tratti di un giornalista in generale sostanzialmente lascio a voi Nicolò Rovella ha passato dal Genova a Juventus per un valore di 18 milioni nello stesso lasso di tempo sono passati due calciatori del Genova Portanova e Petrelli alla Juventus guardando il bilancio della Juve questo valore di 18 milioni riconosciuta Rovella è un valore reale? mi sembra un po' del tutto irrealistico chi conosce Rovella? è già semplicemente qui probabilmente ci sarebbe da ridire perché chi conosce Rovella chi è Rovella? Rovella è un classe 2001 che da due stagioni è titolare al Genoa e da qualche anno nel giro delle giovanili e delle nazionali nell'ultimo periodo è anche un titolare inamovibile dell'Under 21 quindi per carità ci sta che non tutti sappiano chi sia Rovella però nel momento in cui ti chiedono a te da giornalista un parere sulla vicenda Rovella se tu esordisci dicendo chi conosce Rovella non è che ci fai proprio una grandissima figura con tutto il bene del mondo perché è comunque un 2001 titolare in nazionale e titolare in Serie A così per dire è come se la gente si scandalizzasse del trasferimento abbastanza oneroso di Holland dal Molde al Salisburgo chi cazzo è Holland voglio dire da dove è comparso questo qui perché è stato pagato così tanto e la cosa assurda è che questo è nulla in confronto a quello che dirà tra poco conosciamo tutti Chiesa bene Chiesa sapete quanto vale il bilancio 12 milioni quindi Rovella vale una volta e mezzo Chiesa diciamo sulla casa cioè sostanzialmente il giornalista professionista in questione ha messo a confronto la valutazione intera di Rovella con la quota di ammortamento sul bilancio di Federico Chiesa che bisogna anche sempre ricordarsi è in prestito non è stato acquistato a titolo definitivo poi per carità a bilancio può effettivamente pesare 12 milioni ma poi soprattutto siamo sicuri che Rovella a bilancio ne pesi 18 e che 18 non sia il valore complessivo del trasferimento è una piccola domanda però siccome mi si parla del caso Plus Valenza sarebbe quantomeno opportuno farlo in modo corretto parlandone in modo quantomeno consono questo soprattutto per non pensare che sia un servizio in mala fede o che sia stato fatto nella più totale ignoranza ma a prescindere da dove si voglia leggere è una figura di merda assolutamente non da poco io a questo punto mi auguro che all'interno del servizio dato che appunto in quest'indagine sono coinvolte diverse squadre visto che il peso di Chiesa a bilancio è di 12 milioni mi auguro si interroghino anche sul come mai tre giocatori della primavera del Napoli siano stati valutati 5 milioni l'uno e poi puntualmente qualche mese dopo tutti quanti siano casualmente magicamente scomparsi dai radar del Lille e soprattutto visto che Rovella 18 milioni messo a confronto del campione d'Europa Chiesa a 12 ci sta a chiedersi come mai sia stato valutato un'ottantina di milioni osimen a questo punto no così per dire tanto l'abbiamo buttato in cacciara perché non farlo in modo totale e definitivo e quello che mi chiedo io è come fai a una certa non pensare alla totale mala fede di questi signori qui ricordandosi sempre che la Juventus comunque rimane pur sempre una società quotata in borsa e cose di questo genere soprattutto poi quando sono fatte in totale mala fede o in totale disinformazione ma io a questo punto tenderei a virare sulla prima vedendo che quelli di Report penso abbiano tutte le carte in regola per informarsi e soprattutto per saper informare su come funzionino certe dinamiche di bilancio anche abbastanza banali tutto questo a una società quotata in borsa non è che faccia poi un gran bene e io come al solito mi auguro che quantomeno nelle sedi opportune la Juventus intervenga perché onestamente dopo la figura abbastanza barbina fatta da Report riguardo l'inchiesta Last Banner quantomeno mi sarei aspettato un qualcosa di un pochino più serio e professionale riguardo il discorso plus valenze che ribadisco se ne vuoi parlare puoi tranquillamente farlo è una merda anche dal mio punto di vista il discorso delle plus valenze che danneggiano e basta la Juventus quantomeno proprio a livello sportivo senza entrare negli altri discorsi anche perché lì giustamente valuterà chi di dovere nelle sedi competenti però quantomeno cercare di fare una roba un pochino imparziale raccontando come stiano veramente le cose anche perché fondamentalmente sono cose abbastanza basilari queste qui io me lo aspetto quantomeno lo spero ecco lo sogno lo sogno dopo la figura di merda di qualche anno fa sull'inchiesta Last Banner invece nulla vogliono proseguire sulla loro strada anche perché tanto lo sanno benissimo anche loro nel dubbio se sputi merda sulla Juventus i risultati li hai e diciamo che va benissimo così né più né meno detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve piccola postilla finale come avrete sentito all'interno del video proprio per una mia ignoranza non ero a conoscenza di questo giornalista che è stato chiamato da report per giustamente contribuire al meglio in questa indagine solo che facendo proprio una brevissima ricerca e per brevissima ricerca intendo mi hanno passato l'immagine su twitter si tratta di Fabio Pavesi giornalista finanziario che già questo mette un pochino i brividi ma quello che mette ancora di più i brividi è la sua descrizione ha lavorato per 28 anni e il sole 24 ore e non male cioè mi stupisce che non conosca una vicenda così banale come la situazione no? Rovella e Federico Chiesa ma va benissimo con quasi una laurea in storia si è appassionato fin da subito i misteri della finanza con quasi una laurea in storia quasi rende l'idea? resta